DEF CON 1 Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio della vanilla con la gnocca Ecco qui la gnocca Ciao Allora ragazzi, cosa facciamo oggi? Come vedete qui ho fatto un piccolo buco Che qua dentro noi cosa faremo? Metteremo tutte le chest con la roba preziosa eccetera 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 L'unico problema è che se noi sbagliamo a scavare c'è la sabbia che cade Con la sabbia che cade, ecco Si buca tutto, quindi dobbiamo fare tipo così Levare la sabbia E continuare Tipo io farei per... Eh che cazzo Ma che cazzo Si è una cosa molto simpatica Tattica, molto tattica Molto Allora li lascerei così Poi scaverei per di qua Ok vabbè siamo spuntati qui Dettagli facciamo così Prova ad essere una cosa... Un piccolo diciamo nascondiglio Barra... Non so che cosa Se rompo cosa... Ok non è successo nulla L'idea tipo di fare una roba così Rompiamo... Ecco altra sabbia Olè Proprio tempesta di sabbia Infatti Ah è giorno Opla Ok rompiamo qui Scaviamo un altro po' Allora di qua vedi Io farei una cosa simile così Puoi fare una cosa... Non rompere qui Aspetta 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 Calmati 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 Ok Ok Allora Io farei una cosa così Simpatica E mettere là dentro un secchietto di lava Così fa luce Quindi Vedi se abbiamo un secchio di lava Eh... Se no lo metteremo dopo Così meno sto lato Diciamo l'abbiamo sistemato un pochettino No di latte Che cacca che ci facciamo con il latte là dentro? No dobbiamo facciare la lava per questo Non lo so non c'è Non c'è Ok scriviamo un altro po' Poi che se non lo rifiniamo Nei prossimi episodi Così tanto adesso è una bozza questa qui Ops Ma che c... Oh Salve Ciao Squiddy Oddio guarda che bello quello Quello Squiddy Squiddy Ops Ok Vabbè Emerald Cioè Ti metti pure tu davanti Sai come non si trasparenta Ok Perfetto Ok Questo qui lo possiamo lavare Questo no Credo Eh che cazzo Di nuovo Eh cazzo Eh vabbè Opla Ok Ok Fatto Questo qui Questo così Vabbè intanto deve essere abbastanza Dove mettiamo Tipo uno No facciamo tipo Qua Qua Ok Aspetta Facciamo così allora Voglio fare intanto delle ceste Ok Facciamo così Scaviamo un altro pochettino Di qua Qua scaviamo Qua non possiamo scavare Solo c'entra l'acqua in casa Ecco Qua neanche potremmo scavare Ma io l'ho fatto lo stesso Perché sono trasgressivo Opla E trasgre Ok Sono trasgre Allora Trasgre Allora Questo coso qui lo lasciamo così Anzi faccio una cosa simpatica Fa un culo un attimo anche se entra dentro l'acqua Fa Ciao Sì A posto L'ho messo ovunque tra Vabbè Ok Ma che cazzo Ma cosa è Problema tecnico Problema tecnico Tranquillo Sì Bravissimo È tutto controllato Sono un architetto Fidati Sei bravissimo Sì Ok Ok L'ho fatta le ceste Perfetto Ma adesso mettine Due qua Due qua Due qua E due qua Due qua Due qua No Già sbagliato Hai visto Ho fatto down Dove devo mettere Due qua Uno E l'altra Non puoi mettere Perché c'è questa qui E vabbè Voglio rompere la catorce Ok E due Ok Poi Un'altra Qua 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 Ok Ok Va bene così però Dai Adesso Ci servono delle torce Che non abbiamo Però io ne ho 56 Perfetto Prezzo un po' di torce Da dentro Perché è buio Come la morte Ok Ok Cominciamo a prendere La roba Da suddividere Quindi questo Questo qui Questo Questo qua Questo 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 E basta Possiamo andare Scendiamo Ok io che prendo? Eh ma non lo so Prendi La roba La cacca Sì esatto Bravissima Ok Cacca La cacca Cacca Prima cosa Ovvero andare nel Nether Io nel frattempo Metto anche Ok Quanto siamo in registrazione Faccio una piccola cosa Ci serve Cobless Ne abbiamo 64 Va bene Ok Non è perché Se abbiamo messo Qualcosa A cucinare Vediamo un po' Sì Perfetto Oh là Che c'è di roba Ok E possiamo metterlo qua A posto Fatto questo Andiamo Nel Nether Quindi andiamo per di qui Attento a non cadere Eh sì vabbè Perfetto Io se mi facevi cadere Madonna Ok Ti ricordo che siamo Sopra La morte Esatto Dobbiamo arrivare là sotto Quindi come facciamo Prendiamo la Gobleston Io non l'ho portata Perfetto Non l'ho portata io Si fa Non mi piace sto solo Non mi piace Oh 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 Oddio Ma sfiora No Siamo fottuti Ce l'ho io Il bellacciarino Ok Non morire Non morire Fermo 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 Dio stronto di merda Tranquillo Tranquillo Afficina Fini di buttano Vieni qua Vieni qua Ti frecchio Vieni Ma io l'arco non ce l'ho No Anculo Oddio 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 Madonna mi è passata davanti Mi ha sferato Mi ha fatto i capelli Vieni qua Vieni qua Vieni qua Eccola Piccola 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 Oddio Mandegli indietro Sì Le devi mandare indietro Tu distravi Mentre scendo giù Cioè non posso scendere C'è questo è il problema Oh mio dio Non su di merda Sto fare una roba così Abbastanza tattica Aia 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 Culo Così Anculo Dov'è la mia Zuppa di funghi Ok Perfetto Io ma già sarà Posso venire Non ho risolto un cazzo Sì puoi venire Puoi venire Puoi venire Vieni qua Ma che cazzo Ma cos'è questa Zitta Per forza così Perché non possiamo scendere In un altro modo D'acqua Non ne possiamo piazzare Blocchi verso il basso Non possiamo E vabbè Io farei tutta ossidiana Che ne dici Tutto il neder ossidiana Ok Vai più lì Aspetta Ma sto cos'è Ok Allora Facciamo adesso Una roba Così tipo In modo per ritornare indietro Se no rimaniamo fottuti Così 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 Ok Visto che sono l'architetto io Leo ti prendo avanti Aia Prendiamo un po' di Questa cosa qua Usiamo adesso questo qua Vabbè Adesso dobbiamo scendere noi Il problema è che non c'è neanche cibo Io non ho portato cibo Tu? Io c'ho solo una Zuppa di fubbia E' utile no? Tenta Madonna Oddio ma poi crolla Aspetta aspetta Gli lo mando indietro L'ho di davanti Vabbè Va bene Lo sai che Qua sta cosa Cade vero Perché c'era gravel Sì che lo so E adesso Ma perché non ho portato l'arco A Emerald Ok allora Il problema è questo Io non posso scendere Perché se non muoio Ok allora Andrò a prendere gli archi Tipo le frecce Allora aspetta Un momento Possiamo sfruttare La gravel Per scendere Ovvero facciamo così Guarda Sono un cazzo di genio Un momento Opla Guarda Tac 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 Letti davanti Che non Brava Ciao Ciao Ma io sono con tre cuori e mezzo Non posso fare sto salto Aspetta Santo Dio Che cazzo Perfetto Ok Ho un cuore e mezzo Vieni Tieni questa Mangia questa Dammi 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 Per favore Veloce Ho portato manco i funghi Idiota però Ok Allora adesso qua La cosa è molto grave O gravel Non so come piace a noi Ehm Di scena di qua non posso Anzi mi sto ricoprendo un po' di vita Se era un po' sto blocco Non devo rompere quel blocco Ok Lo tuo cuore e mezzo Stronzo Non l'ho fatto a posto Adesso però possiamo fare Sta roba qui Ovvero prendiamo così E comincia Cosa? Tac 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 Ok Ma che cazzo Perfetto Siamo arrivati nel nether Ok Eh Ok adesso Con due cuore e mezzo Cosa possiamo fare Eh Spiegami Non lo so Io adesso ve lo scappo Intanto Sì Saliamo Guarda Secondo me Forse è la meglio cosa da fare Saliamo Comunque raga Allora Dai Questo episodio Prima qui Anche se abbiamo fatto poco Abbiamo fatto una cosa simpatica Dentro casa Che porteremo avanti Siamo nel nether Non possiamo tornare indietro Perché non c'abbiamo Accendino Siamo in pratica Fottuti Qui Meg e Emerald È tutto Due cuore e mezzo Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti